buongiorno a tutti ragazzi salve benvenuti al mio canale per questo nuovo video come sempre vi invito a lasciare tanti like che è gratis e non dovete pagare niente per sostenermi e per mettere in evidenza questo video naturalmente iscrivendovi al canale altra cosa che è assolutamente gratuita e facendo poi girare questo filmato sui vari social oggi come volete come vedete dal titolo ho l'intenzione di fare un breve recap di calcio mercato quindi di parlare dei principali nomi accostati alla roma nelle ultime ore quindi i principali movimenti di calcio mercato che si stanno registrando al momento allora intanto devo dire ho risposto a diverse domande che mi sono arrivati in direct su instagram e riguardo appunto svilare devo dire che da quello che mi risulta è tutto ok è tutto a posto per il passaggio di questo giocatore alla roma l'idea dei giallorossi sarebbe quella di renderlo un simil ospigna meret in che senso dove lui patrissio all'ospigna di turno quindi il titolare della roma ma allo stesso tempo alle sue spalle poi ci sarebbe un giovane di assoluto valore di assoluto livello come svilare quindi si andebbe a creare quello che comunque sta funzionando molto bene al napoli con un titolare di grande esperienza di grande caratura ma allo stesso tempo un giovane che definire riserva è comunque alzardato perché meret tutto sommato ogni anno riesce a fare almeno dalle 10 alle 15 partite e poi comunque immagino che in un futuro prossimo meret prenda il posto il posto del napoli così come immagino io che svilare poi in prospettiva possa prendere la titolarità della roma ma non voglio parlare solamente della tematica legata al portiere ma anche quella della dell'attaccante dalla spagna toto fichache che è un portale che si occupa tra le altre cose di di mercato sta accostando alla roma con una certa insistenza e nesdri per chi non lo sapesse è un attaccante del civile che quest'anno sta vivendo una stagione un pochino disgraziata ma che ad esempio lo scorso anno è riuscito addirittura a mettere a segno 24 gol tra l'altro noi lo conosciamo molto bene perché quando il civile ci eliminò dalla coppa uefa questo giocatore fece molto bene contro di noi quindi è un nome ripeto che noi romanisti purtroppo abbiamo imparato a conoscere sulla nostra pelle infatti poi il civile dopo averci eliminati è riuscito comunque a portarsi in bacheca per l'ennesima volta la coppa uefa perché il civile è la squadra che appunto ha vinto più volte questo torneo non è un giocatore che si sta giocatore che costa parecchi soldi in spagna ne fanno una valutazione di 40 milioni di euro per me è abbastanza verosimile realistico che se un club si presenta al civile con 30 milioni di euro magari non eccessivamente rateizzati per come conosco io monci comunque sia il modo di fare mercato da parte del civile credo che si possa arrivare tranquillamente ad un accordo quindi sostanzialmente possiamo dire che è un'operazione sui 30 milioni dopodiché ragazzi dobbiamo fare un altro tipo di discorso naturalmente quando si va poi a liberare un giocatore di questo livello comunque così interessante è normale che la roma non sia l'unica squadra potenzialmente interessata quindi si aprirebbero dei scenari che inevitabilmente andrebbero a riguardare anche squadre della liga spagnola e e squadre della premier league questo potrebbe essere un piccolo ostacolo ma ripeto quello che vado sempre dicendo cioè se tu veramente vuoi un giocatore vai su questo obiettivo in maniera pesante con determinazione secondo me è molto difficile che alla fine tu non riesca non riesca ad aggiudicartelo quindi sicuramente la roma deve pensare anche al mercato degli attaccanti apparentemente non sembra non sembra una priorità perché comunque sia la roma ovviamente ad operare maggiormente al centrocampo e probabilmente anche in difesa però la realtà è che quest'anno quando è mancato ebram sicuramente ci sono stati degli enormi problemi a livello offensivo quindi basti pensare anche quanti attaccanti magari all'inter alla juventus la juve a quantomeno morato e blauvi c'è l'inter c'è a zeko lautaro correa sanchez quindi onestamente tra le cose migliorabili e implementabili non possiamo non possiamo non mettere anche il discorso legato legato all'attacco e allora sicuramente questo sarebbe un bel profilo un bel giocatore come lo potrebbe essere anche dei paesi del barcelona che è vero che nelle ultime partite sta trovando un po più spazio però sinceramente è altrettanto vero che non rientra neanche lui più nei piani del barcelona e perché perché alla fine della fiera insomma pure pure il barcelona visto che acquista e vende molto nella compravendita del calciomercato credo che dovrà trovare una collocazione anche per per memphis e per il resto parlando della roma in maniera sparsa almeno a livello internazionale almeno a livello di conferenze e riusciamo ad avere dei sorteggi arbitrali buoni perché io ritengo che il polacco rak skoski sia un ottimo arbitro lo abbiamo già visto all'opera con noi questa è proprio una chicca ad appassionati magari non tutti se lo ricordano però c'è già arbitrato nella partita contro il vittorio pulsen quando abbiamo vinto in maniera piuttosto larga con una prestazione memorabile di zego e fini 5 a 0 e dopodiché c'è anche la notizia di clivert clivert ha già totalizzato il numero di presenze necessarie propedeutiche al al suo riscatto e però ora dobbiamo un attimo vedere se in pratica il inizia riuscirà a qualificarsi e per la champions sono un'altra condizione sine qua non per il riscatto dopodiché e dobbiamo un attimo vedere anche la situazione di di zaleschi è chiaramente zaleschi che ormai è il titolare a sinistra è uscito purtroppo infortunato dal match contro l'atalanta dobbiamo un attimo vedere se sarà a disposizione per l'olanda oppure se verrà risparmiato per poi giocare a udine in campionato anche quella è una partita molto importante chiaramente la roma nutre in maniera legittima speranze di qualificazione in europa league o in champions league quindi ora per lei arriva un calendario un po complicato perché l'europa è un obiettivo molto importante ma senz'altro leva tante energie basti pensare che ad esempio la settimana del derby la lazio praticamente avrà modo di preparare roma lazio una settimana intera e si dedicherà unicamente a quella partita unicamente a quell'obiettivo la sviscererà nei minimi dettagli invece la roma qualche giorno prima c'è l'importante gara di ritorno contro il vitesse quindi non è la stessa cosa non è la stessa cosa fare fare una partita in più comunque ti espone a infortuni a quant'altro poi tutta lunedì comunque alla giovedì devi preparare la partita europea quindi in sostanza inizia a pensare al derby solamente da venerdì c'è solamente due giorni in pratica per prepararlo quindi chiaramente la roma facendo l'europa questa è una difficoltà in più che non si può considerare nulla detto questo volevo farvi questo breve recap di mercato spero che abbiate apprezzato e quindi rimanete collegati per i miei video un abbraccio a tutti vi auguro buona giornata e se a tutti i miei video un'imprimazione